Ben trovati in aggiornamento con la tendenza media e lunga scadenza, situazione per il 31 ottobre, il primo novembre, proprio a cavallo dei due mesi, ritroveremo probabilmente un anticiclone che tra i suoi massimi tra i Balcani e parte l'Italia, ma perturbazioni che potrebbero giungere di nuovo dal nord atlantico. Segnaliamo per quanto riguarda l'estremo sud un minimo di bassa pressione posizionato probabilmente tra la Tunisia e la Sicilia fuori di qualche rovescio all'estremo sud. Seguite gli aggiornamenti precisi però scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.